Signori andava provato e voi avevate davvero tantissima ragione Negli ultimi mesi sotto i miei video in tanti mi avete chiesto di parlarvi dell'Honor Magic 5 Pro e di cosa ne pensassi e in tutti quei messaggi io vi ho risposto che Honor non mi aveva inviato il loro prodotto e quindi non riuscivo a darvi la mia opinione e parlarvene un pochettino nel dettaglio quindi dopo aver ascoltato tutte le vostre lamentere, i vostri messaggi, cosa ho fatto? Ho cercato di reperire finalmente un Honor Magic 5 Pro e devo dire che voi avevate pienamente ragione e adesso vi spiego il perché Sto utilizzando questo Honor Magic 5 Pro da quasi una settimana mi ho messo una pellicola per capire se ha problemi di sensore per le impronte l'ho usato come smartphone principale con la mia SIM Vodafone 5G e devo dirvi che al prezzo di sconto attualmente o quello delle settimane scorse io vi lascio comunque il link in descrizione Porca miseria se ha senso ma ne ha davvero tanto senso oggi Direi di cominciare dalla confezione di vendita che come vedete è piuttosto cicciotta ma è anche molto completa al suo interno infatti troviamo un caricatore a 66 watt, bello rapido il cavo di ricarica, la cover che è già sullo smartphone una pellicola pre-applicata quindi direi che a livello proprio no di confezione nulla da dire c'è già tutto quello che serve non dovete spendere nient'altro oltre ad acquistare lo smartphone i materiali, il design e la parte costruttiva è complessivamente lo smartphone direi perfetto lui sta bene in mano, non è troppo pesante soprattutto se consideriamo la diagonale del pannello lui è piuttosto grande i profili sono leggermente spigolosi e piatti insomma è proprio uno smartphone che esteticamente mi è piaciuto molto è tutto poi ben posizionato, il tasto di accensione cade nel posto giusto con il dito i tasti sono tutti belli stabili abbiamo poi il sensore ad infrarossi qui sopra per utilizzarlo come fosse un telecomando quindi molto bene abbiamo anche la tipo C qui sotto con uscita video di speaker stereo devo dire che è tra i più completi che ho provato quest'anno poi vi spiego anche il perché lo trovo tra i più completi perché ci sono alcune chicche che non sapevo e che adesso so dopo averlo provato questa volta ragazzi parto da ciò che di solito tengo alla fine dei miei video ovvero l'autonomia ragazzi lui è il miglior top di gamma di questo 2023 per quanto riguarda proprio l'autonomia in generale io ho superato agevolmente le 8 ore di display su due giorni di utilizzo ed è una cosa che non mi è mai successa con un top di gamma che voi lo utilizziate fuori casa o dentro casa lui è strepitoso, davvero il migliore sotto questo punto di vista ad aggiungersi poi a questa autonomia che secondo me è proprio da riferimento abbiamo la ricarica a 66 watt cablata e la ricarica wireless addirittura a 50 watt velocissima oltre ad avere anche lui una ricarica inversa per caricare cuffiette e altri oggetti wireless quindi davvero top un altro punto dove l'ho trovato come uno dei migliori di questo 2023 riguarda la ricezione ho fatto diversi test soprattutto qui nel mio ufficio dove c'è davvero poco campo con Vodafone e in questi punti soprattutto nella mia scrivania Honor è il migliore ha uno speed test ottimo e in particolar modo ha un mantenimento del 4G anche in zone dove praticamente nessuno ci riesce e quindi mi permette di navigare a differenza magari proprio di questo dispositivo comunque molto costoso abbiamo poi il sensore di prossimità in chiamata che è perfetto come ottima anche la qualità in capsula auricolare sotto questo punto di vista devo dire che è davvero notevole come è notevole l'audio stereo dei doppi speaker sul dispositivo li ho misurati con uno strumento apposito e devo dirvi che anche a livello proprio di volume generale è davvero tanta tanta roba quindi ragazzi ci siamo ciò che mi preoccupava in particolar modo in questo Honor Magic 5 Pro riguarda il software ma soprattutto gli aggiornamenti sappiamo benissimo noi smanettoni che leggiamo le schede tecniche che Honor non è la prima della classe per quanto riguarda gli update e soprattutto gli aggiornamenti Android infatti lui ha ancora Android 13 ma resta comunque una conferma nell'uso quotidiano e poi voglio farvi vedere alcune chicche che non conoscevo del software Honor almeno di questo Magic 5 Pro che mi ha fatto pensare davvero parecchio perché effettivamente hanno fatto delle cose molto molto interessanti per cominciare a mille swipe utilizza del notch e figure varie che ti permettono di dividere usare con una mano il dispositivo su questo è forse il più completo ma ci sono poi le smart sensing quelle che più mi hanno davvero colpito infatti cari ragazzi questo Magic 5 Pro come vedete ha una doppia camera posta qui nella parte frontale una camera 3D come iPhone giusto per intendersi e hanno sfruttato questa cosa in modo a mio avviso geniale ad esempio il display ruota in base all'orientamento del volto e questo è davvero geniale in quanto non avrete mai il display che si gira in modo sbagliato rispetto a come lo state guardando e questo è veramente geniale e non capisco come mai tutti gli altri non ci abbiano pensato inoltre abbiamo la possibilità di mantenere il display acceso quando lo guardiamo succede anche con altri smartphone ma qui è molto molto più preciso in più ci sono le air scroll ovvero potrete utilizzare il vostro smartphone facendo così senza toccare il pannello e automaticamente salite scendete all'interno delle pagine comodo magari quando avete le mani sporche e state guardando i tiktok fate così e passate da un tiktok all'altro anzi se non lo fate seguitemi anche su tiktok perché ogni tanto pubblico anche lì e non sta andando proprio malissimo torniamo a lui però a questo doppio sensore posto qui in alto a molti pro è un unico contro i pro sono lo sblocco facciale 3d come in iphone per intenderci in aggiunta abbiamo anche lo sblocco con l'impronta che oltre ad essere molto veloce e reattivo funziona perfettamente anche con una pellicola non di serie l'ho comprata apposta su amazon per capire se ci fossero problemi poi grazie al doppio sensore hanno sfruttato tutte le chicche che vi ho detto prima quindi i vari swipe e quant'altro ha una cam di buon livello un sensore TOF mentre di contro perdiamo un po' di spazio nella barra delle notifiche in alto ma direi poco male insomma perché comunque il display è piuttosto grande e a dire la verità non mi dà nemmeno fastidio quando guardo i miei contenuti perché risulta comunque abbastanza sottile come foro come sensore insomma e quindi devo dire che mi sta bene il doppio sensore perché qui l'hanno sfruttato al fondo ed è il più completo in assoluto fra gli smartphone provati fino ad oggi perché ha due sistemi di sblocco uno 3D come iPhone e uno con impronta come tutti gli altri Android quindi qua ragazzi la completezza è assoluta e adesso voglio parlarvi di un altro punto di forza di quest'Honor e ragazzi non è un video sponsorizzato ovvero il display il pannello anche se in pianta non è più grande di altri il display è uno strepitoso LTPO OLED a 120Hz HDR 10 Plus con 1800 nits di picco da ben 6,81 pollici che ragazzi regala emozioni agli occhi soprattutto se pensiamo che è uno dei pochi che è pensato davvero per affaticare al minimo gli occhi quando lo guardiamo il PWM infatti è l'antisfarfallio è al top il tono di colore che si adatta poi in base alla luce ambientale sono tutte primizie che non troviamo ovunque e vi assicuro che la comodità agli occhi è eccelsa è davvero un pannello che non stanca mai alla vista e trovo sia uno dei migliori sotto questo punto di vista scusatemi la ripetizione ma a livello di pannello mi ha davvero gasato a manetta l'unico punto negativo se vogliamo ma questo dipende molto dei vostri gusti almeno per quanto riguarda i miei e per coerenza ve lo devo dire io non amo i pannelli curvi ma se voi invece amate i pannelli curvi o amate comunque gli smartphone affusolati che non sembrano insomma delle mattonelle sicuramente amerete anche questa cosa di questo Honor Magic 5 Pro però devo dirvi che proprio a livello di qualità di pannello mi ha straconvinto comodissimo efficace funziona tutto al top dimenticavo cosa molto importante per quanto riguarda proprio la vibrazione è secca precisa mi piace quando si scrive sul pannello tanta tanta roba ed è anche un petardo ragazzi devo dirvi anche questa cosa no perché poi mi chiedete sempre ma è un petardo oppure no ragazzi nell'uso quotidiano lui gira perfettamente potete stressarlo quanto volete non scalda non ha lag si comporta davvero e proprio top di gamma anche perché ragazzi lui è un top di gamma infatti sotto il cofano abbiamo 12 giga di RAM lo Snapdragon 8 Gen 2 e poi ragazzi le memorie sono UFS 4.0 quindi a livello hardware è paritario a tutti gli altri dispositivi che si vedono in giro con tutte altre chicche e in più e oggi con gli sconti tanta roba passiamo nella parte posteriore dove c'è questo mega oblo può piacervi o meno magari fatemelo sapere qui sotto con un commento e abbiamo tre cam davvero notevoli una grande angolare pazzesca penso sia una delle migliori che abbia mai provato che è una 50 megapixel f 2.0 strepitosa con autofocus poi abbiamo un 3,5x stabilizzato f 3.0 sempre da 50 megapixel e per ultimo un sensore praticamente da un pollice da 1,6 pollici stabilizzato anch'esso sempre da 50 megapixel insomma un trio da 50 carte che sulla carta fa davvero paura almeno ragazzi io ho fatto dei test mi è piaciuto molto le foto ragazzi devo dirvi che vi sono piaciute tantissimo soprattutto nel mio profilo instagram in questi giorni vi ho postato alcune foto e in tanti mi avete chiesto se fosse iphone pixel Xiaomi 14 no ragazzi è lui che ha scattato tutte le foto che vi ho fatto comparire all'interno del mio profilo instagram e vi sono piaciute vi sono piaciuti i colori ma vi sono piaciute anche tantissimo a me quando le ho viste con Deborah sono delle fotografie pronte praticamente immediatamente per quello che riguarda i social il 3,5x di giorno è fantastico i risultati sono veramente incredibili vi sono piaciuti anche a voi tantissimo su instagram e anche il 10x è davvero tanta roba ma con tanta luce con poca luce soffro un pochettino ma il sensore principale che ragazzi mi ha lasciato davvero incredulo ci credevo poco in realtà ma il risultato finale è pazzesco la qualità fotografica l'avete vista voi ed è davvero tanta tanta roba la cam frontale è piuttosto buona è valida si comporta bene e si comporta bene anche nei video dove oggi arriva il 4k a 30 frame per secondo quindi non male direi mentre i video sono davvero ottimi raggiungono i 4k a 60 frame con il cambio dalla grande angolare agli altri sensori senza nessun problema quindi a differenza di tanti altri top di gamma android che non permettono il cambio cam in 4k a 60 lui lo permette c'è qualche sforfallio qualche piccolo lag nel cambio cam però devo dirvi che tutto sommato anche meglio di altri la qualità dei video li state vedendo anche voi ma alla fine di questa chiacchierata vi lascio alcune clip di prova così vedrete la stabilizzazione e anche la raccolta dell'audio non è il migliore in assoluto per quanto riguarda i video ma comunque mi ha convinto mentre per quanto riguarda tutte le foto come al solito le troverete all'interno del mio canale telegram vi lascerò linkato qui sotto un link diretto che vi rimanda alla sezione dove troverete solo le foto quindi se volete poi seguite il canale telegram oppure no ve lo lascio linkato anche qui di fianco ma lì troverete tutte le foto in alta risoluzione con tutti i dettagli così potrete guardare al vostro computer e capire effettivamente cosa intendo con ottime foto non dico che sia il miglior camera phone del 2023 ma a questo prezzo sinceramente a livello fotografico a me ha convinto parecchio ciò che poi mi è piaciuto facendo i vari test di questo dispositivo riguarda qui sotto la tipo c cosa è successo in pratica collegando il mio classico cavo per fare i test ho visto che lui ha una modalità desktop non ha solo una semplice uscita video una duplicazione dello schermo e basta un po' come fa motorola e samsung anche qui abbiamo una modalità tipo pc da usare sul monitor esterno e che trasforma le potenzialità di questo honor in un vero e proprio computer portatile ragazzi funziona davvero molto molto bene e mi ha veramente appagato anche sotto questo punto di vista io non ricordavo honor avesse una modalità desktop non so se questo lo avesse dal primo giorno ma dico bravi davvero bravi perché va insomma in qualche modo a rendere completo al top un dispositivo come questo e io non lo sapevo quindi brava honor altri punti dove lui è il migliore beh ve li spiego immediatamente il gps prende anche nel mio ufficio è l'unico ad avere qualche tacchetta addirittura a fare il fix in 2d all'interno di questo bunker il wifi funziona benissimo ma non ha il wifi 7 ma è solo 6 ma comunque ha una buona ricezione ottimo anche ottimo anche il bluetooth di tipo 5.2 abbiamo già detto che ha anche la porta infrarossi qua sopra ha tutti i servizi di google ragazzi non c'entra niente con i man visti in passato quindi molto bene ha la ricarica wireless rapida inversa e lui ha anche certificato il p68 ragazzi non gli manca nulla quindi caro Gesualdo ce lo consigli oppure no questo honor magic 5 pro allora ragazzi parliamone a 799 euro prezzo di qualche settimana fa all'interno del shop di honor o comunque con i vari codici sconto io vi lascio dei link anche qui sotto in descrizione eventualmente a circa 800 euro per la versione da 512 giga di memoria interna 12 giga di ram un reparto fotografico che mi è piaciuto molto ma soprattutto una ricezione pazzesca vi ricordo che è dual sim più possibilità di aggiungere anche una e sim con la tipo c con la certificazione p68 una ricarica insomma ragazzi lui è super completo addirittura anche la modalità desktop che manco la ricordavo a 799 euro adesso vi dico di sì anche perché non ha nessuna lacuna per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano ed è molto molto completo honor ragazzi a mio avviso ha solo una lacuna in questo momento un limite la velocità degli aggiornamenti lui ha ancora solo android 13 e quello forse è l'unico limite perché a livello rapporto qualità prezzo prestazioni è probabilmente il brand che oggi offre di più per questo tipo di macchina si è creato anche un bel ecosistema e anche nei medio basso gamma si difende molto molto bene e quindi devo dire bravo honor perché questo prodotto poi oggi a questo prezzo secondo me ha super senso perché probabilmente tra gli smartphone android è quello più completo a questa cifra perché ha appunto alcune chicche che vanno a superare e insomma a mettersi al primo posto rispetto a tutti gli altri se andiamo a guardare proprio tutta la scheda tecnica tutto quello che c'è sotto al copano al netto degli aggiornamenti dove effettivamente devono lavorare un pochino arrivati a questo punto ragazzi vi invito a commentare questo video con un bel hashtag honor sì oppure hashtag honor no per farmi capire se vi è piaciuto o meno questo dispositivo e magari anche il perché se secondo voi ha senso oppure no insomma fatemelo sapere qui sotto nei commenti io vi ringrazio se metterete un bel like e vi iscriverete al canale se ancora non lo aveste fatto e come dico sempre prima di chiudere ogni mio video mi raccomando fate i bravi ragazzi ciao e a presto signori buongiorno con il sole alle spalle e la fotocamera frontale di un nuovo smartphone che sto testando oggi c'è anche il sole torno da voi qui su instagram cercando di sorridere alla vita perché altrimenti non posso fare e anzi è l'unica cosa che posso fare per cercare di andare avanti e niente quindi sto provando un nuovo smartphone e questo video anche per annunciarvi domani alle 9 e mezza esce un nuovo video al solito orario quindi domenicale ho fatto un test per capire ma secondo me la domenica comunque non è un appuntamento sbagliato tutto sommato quindi si continua con quella giornata e con quell'orario un po' di pausa comunque ci stava e lì capirete anche in piccola parte quello che mi sta succedendo succedendo nelle ultime settimane e per quale motivo insomma magari mi vedete un pochettino meno presente sui social 4k 63 in per secondo fiera di Cerea di Cerea di Cerea di Cerea di Cerea di Cerea di Cerea